bella raga siamo tornati con gli incarichi storia di forte un bel like quello di andare a vedere cosa dobbiamo combinare dobbiamo distruggere oggetti in vari luoghi delle terre desolate le terre desolate sono tutte queste robe qua dove c'è deserto quindi basta distruggere qualsiasi roba provate davanti a voi porte finestre macchine case lingotti insomma tutto ne dovete rompere e distruggere 30 30 strutture 30 oggetti vediamo se c'è strutture oggetti dice oggetti se non bastava far cadere una casa per farla un po più velocemente comunque il live corso intanto che andiamo a rompere tutto tutte le strutture tutta la strutturanza siamo già quindi ci si fa abbastanza veloce raga sono missioni davvero semplici con la storia e intanto vi ricordo che se non ci sono per qualche missione potete venire a farli in live tutti i giorni dalle tre e mezza del pomerello sul canale viola oppure qua su youtube e se per caso usate il codice creatore per supportarli potete anche partecipare alle lotterie per vincere premi tipo skinner gift card pass battaglia basta fare un video con il codice creatore attivo e mandarmelo sui social che lo vedo in descrizione di instagram terreno insomma quello che quello che volete allora vediamo ci siamo arrivati ok 30 allora ci fermiamo anche con il video nel costo mi raccomando del show